Buonasera a tutti e a tutte, grazie per questa assemblea, cercherò di fare un ragionamento politico, pragmatico, calato nella contingenza, cercando di evitare toni da seminario, culturalisti, di riflessione opportuna, ma probabilmente che vanno sviluppati con più profondità. La fase 2 per il reddito, per la rivendicazione del reddito, dovrebbe essere l'organizzazione corpo a corpo con la politica che sta formulando un'estensione della legge sul reddito di cittadinanza e rivendicare la sua incondizionalità. L'alternativa è una giungla di piccole misure temporali, frammentarie, corporative, a termine, e peggio, una riforma del reddito di cittadinanza che rischia di vedere l'inasprimento delle politiche attive del lavoro ed un ruolo preponderante di settori come le lobby del terzo settore già molto attive che stanno spingendo con indubbia efficacia sulla definizione del nuovo dispositivo che sarà chiamato, come è stato detto, reddito di emergenza. La domanda mi sembra ora, anche in una chiave di sindacalismo sociale, ma proverei ad allargare la nostra interrogazione sulla politica in quanto tale. Cosa possiamo fare ora nonostante i pesanti e tragici limiti in cui stiamo vivendo? Potremmo, ad esempio, accordarci perlomeno sulla parola da usare. Io proporrei modestamente almeno una moratoria linguistica perché ho sentito almeno 5 o 10 definizioni diverse di reddito. Non è una questione nominalistica, ogni definizione ha un suo accento diverso. Mi sembra tutti sostanzialmente convergenti sul significato di universalità e incondizionatezza. Non trovare nemmeno una parola comune significa non iniziare nemmeno il conflitto con il dibattito politico in corso in queste ore, che parla esattamente di reddito. La mia domanda è, si vuole o no fare politica ora, intervenire con tutti i limiti di questo caso nel dibattito, orientarlo, modificarlo? E' quello che è già avvenuto negli ultimi due mesi. Io credo che avrete intuito e sicuramente capito che la rivendicazione di reddito di emergenza ha vinto, sarà istituito il reddito di quarantena, sarà istituito, preso la lettera, un reddito di emergenza, tutto da definire nell'ordine della platea, del significato del meccanismo amministrativo, dell'inclusione e soprattutto dell'esclusione. E' chiaro che non basta, ora bisogna rilanciare su un reddito, che possiamo chiamare come è più opportuno fare, ma che abbia perlomeno delle caratteristiche di base incondizionato in prospettiva e nell'immediato perlomeno assumerlo come un reddito minimo garantito. Nello specifico si potrebbe formulare un'ipotesi di reddito che potrebbe essere fissato coerentemente con la legge esistente in Italia del cosiddetto reddito di cittadinanza a 780 euro a persona stabile strutturale, il massimale già previsto dalla legge, equiparato al bonus per le partite IVA che sarà innalzato a 800 euro dal decreto di aprile che sarà di maggio. Potrebbe crescere questo reddito a partire da questa cifra di base, seguendo un duplice criterio, composizione del nucleo familiare, ciascuno prende 780 euro, senza requisiti di accesso patrimoniale, residenziale, fiscale, l'importo del salario ottenuto dall'attività lavorativa sospesa o in corso. Questo reddito di base, o come lo vogliamo chiamare, non può essere inferiore a 780 euro e questa condizione dovrebbe permettere di mantenere lo stesso salario in caso di disoccupazione, diversamente da quanto accade oggi per le casse integrazioni. Non tutte le casse integrazioni sono uguali, va ricordato che la cassa integrazione presenta una perdita secca di salario a favore delle imprese, quindi bisognerebbe perlomeno rivendicare un salario pieno da cassa integrazione, cosa che al momento non è. Altro discorso secondo me per rendere ancora più generale la rivendicazione di reddito sono i pensionati, sono stati esclusi dall'accesso a questi contributi statali straordinari voluti dal governo. Questa platea va considerata tuttavia pieno diritto insieme a tutte le altre categorie sociali destinatari di queste misure, soprattutto perché, come è noto, la maggioranza dei pensionati italiani prende meno di 1000 euro e una quota cospicua di pensionati prende anche al di sotto dei 500 euro. Il governo precedente, proprio per rispondere a questa esigenza, ha coniato il nuovo termine di pensione di cittadinanza che è una quota a parte del provvedimento più generale del cosiddetto reddito di cittadinanza. Altra questione decisiva, l'esclusione dall'attuale reddito di cittadinanza di tutti i cittadini extracomunitari residenti in Italia da meno di dieci anni sarebbe molto importante e utile, così come del resto stanno già facendo altre associazioni come l'alleanza contro la povertà, di chiedere l'eliminazione immediata di questo bando di cittadinanza dalla cittadinanza. Senz'altro va chiesto, così come con ogni probabilità sarà ottenuto da questo nuovo provvedimento chiamato reddito di emergenza, non solo la sospensione ma la cancellazione di tutti i vincoli e le condizionalità previste dal pericolosissimo sistema di warfare ancora non attivato sostanzialmente, che prevede un lavoro obbligatorio fino a 16 ore a settimana in mobilità obbligatoria anche su tutto il territorio nazionale. Voi potete immaginare da qui a un anno cosa possa significare se è attivato questo meccanismo in un paese con una recessione devastante, la più grave dal secondo dopoguerra. Per accedere a questo sistema si potrebbero prevedere un tetto pari almeno alla somma tra poveri relativi e assoluti, ovvero 14 milioni di persone che saranno senz'altro superiori anche di un terzo da qui a un anno come conseguenza della crisi che sta iniziando a farsi sentire. Potrebbe costituire questo tetto un obiettivo minimale per la riforma anche degli ammortizzatori sociali esistenti in un'unica misura universale annunciata dalla stessa ministra del lavoro catalfo. Su questo obiettivo si è espressa giorni fa anche la CGL. In questo obiettivo rientra una delle rivendicazioni anche sul salario minimo orario che è necessario per evitare un dumping e riequilibrare l'intero sistema. Proposte di legge sul salario minimo orario ricordo che sono accantonate in Parlamento e ce ne sono più di una, quindi sarebbe anche interessante tornare a rivendicare, probabilmente anche su basi diverse, un lavoro parlamentare che è stato perlomeno istruito nei mesi scorsi. Ho trovato anche molto interessante alcune suggestioni che riguardavano il finanziamento di questo tipo di misure all'interno di una più generale riforma del welfare, sia a livello nazionale che sovranazionale. A livello europeo abbiamo, come noto è stato già più volte detto, un pacchetto di misure del tutto insufficienti ma che sono comunque positive perché probabilmente sono l'inizio di un percorso più ampio che sia pur tardivamente verrà con ogni probabilità sviluppato nel corso dei prossimi anni man mano che la crisi nei vari paesi diventerà più grave e si manifesterà in tutta la sua potenza devastante. Io posso brevemente citare che cosa negli ultimi 20-25 anni è successo a livello di Unione Europea, di Parlamento Europeo sulla questione del minimum e basic income, reddito minimo non reddito di base, che sono categorie molto ricorrenti e oggetto anche di importanti orientamenti e decisioni prese anche dallo stesso Parlamento Europeo, a partire addirittura dal 1992 per finire al 2017. E proprio in virtù di queste importanti decisioni che poi hanno dato vita negli anni anche a grandi campagne di petizioni in parecchi paesi europei che si può ricominciare a pensare a una dimensione sovranazionale effettiva e reale della rivendicazione di un reddito di base incondizionato, perché esiste un'opinione pubblica già sensibilizzata, già protagonista di queste battaglie, e un'opinione pubblica molto sensibile all'intreccio, all'intersezione di una rivendicazione sul reddito con la questione ecologica e la trasformazione della produzione nei termini di una critica anche del capitalismo. Esiste un grande orizzonte da questo punto di vista in termini sia di movimenti che di sindacati che hanno partecipato e sostenuto questo tipo di campagne in questo lungo lasso di tempo. C'è anche, e mi avvio a chiudere, la questione fiscale. Molto spesso nel vasto dibattito sul finanziamento di un reddito di base è stata citata la grande questione delle multinazionali, del web, le piattaforme digitali e il capitalismo digitale, che sta conoscendo anche in virtù di questa crisi un'esplosione di profitti sia finanziari che pubblicitari per sostenere la clausura di miliardi di persone per difendersi dal pericolo di contagio. Ebbene, bisogna, non è un mistero, bisogna tornare a collegare la questione del finanziamento di un reddito di base incondizionato alla tassazione delle piattaforme digitali. Anche su questo, a livello europeo, è molto avanzata la discussione, non si è ancora effettivamente arrivato a una definizione precisa di una misura fiscale possibile, anche perché intervengono i governi e quando lo fanno tutto diventa molto complicato. Ma potrebbe essere un punto qualificante di una piattaforma politica non solo nazionale ma sovranazionale, che abbia un progetto politico e culturale da proporre, alternativo al dibattito, a dire la verità, troppo ristretto sull'emergenza e tutte le priorità di sostenibilità del sistema messo in grave crisi dall'epidemia. Da questo punto di vista mi limito a citare due ottimi e molto interessanti proposte, una avanzata entrambe da Filippo Van Parais, da un lato e da ultimo da Yanis Varoufakis. L'istituzione di un euro dividendo, un fondo dove versare sia tutte le multe derivanti da una rigorosa politica fiscale condotta fino ad oggi dalla Commissione europea sull'abuso di posizione dominante sul mercato da parte delle grandi piattaforme, come da Google, Facebook, Apple e quant'altro. E anche proporre che sia questo un fondo sovranazionale dove versare gli importi di una web tax sovranazionale coordinato a quelle nazionali, se e quando verranno istituiti. In questo fondo potrebbero anche confluire altre forme di tassazione europea di questa multinazionale e insieme pensare di destinare il totale di questa somma all'erogazione di un minimo vitale per tutti i residenti in Europa che sarebbe aggiuntivo alle risorse esistenti e future che possono andare in ogni caso a finanziare su scala nazionale un reddito di base perlomeno concepito come reddito minimo garantito. Tutto questo ragionamento è per invitare, per quello che è possibile, alla luce anche della condizione materiale in cui tutti ci siamo, a rinvigorire una campagna culturale, una campagna social, una campagna web, perché ha già funzionato. Negli ultimi tre mesi la campagna del reddito e quarantena ha orientato l'opinione pubblica e i decisori politici in questo Paese che naturalmente stanno provando a declinare le interessanti intenzioni della campagna in maniera parziale e categoriale e soprattutto emergenziale. Ma questo significa che in questa condizione, gravemente coatta e difficile, è possibile intervenire nel dibattito politico nazionale. Si potrebbe concretamente, laicamente, pluralisticamente, lavorare tutti insieme a un'idea di piattaforma il più ampio possibile, la più porosa possibile, la più aperta possibile, da considerare non come mera sommatoria delle identità esistenti, ma come una piattaforma capace di intervenire attivamente nel dibattito politico reale, su questioni urgentissime, che soprattutto non finiranno da qui a giugno, ma che costituiranno la vera questione sociale da qui ai prossimi tre anni. Quindi è molto importante, anche in questa fase difficile, immaginare sia culturalmente che anche come campagne web e sociali, è una fase di accumulazione, di rinnovamento, di rigenerazione per andare oltre se stessi, perché tutto questo è già avvenuto nel caso della campagna per il reddito di quarantena. Quindi vi ringrazio.